La prima scossa è stata preceduta da un boato alle 2.45, la seconda pochi istanti dopo alle 2.46. Migliaia le persone tirate giù dal letto, da Fara di Soligo a Queirovas, da Conegliano a Borgo Valbelluna. Tanti scendono anche in strada. È piena notte quando la rete sismometrica del Veneto segna rispettivamente 3.7 e 3.5 della scala Richter. L'epicentro aviane a cavallo tra le province di Treviso e Belluno a una profondità di circa 10 km. Seguono quattro repliche, la più forte di 2.6 Richter alle 3.32, ma lo sciame sismico interrompe la sua sequenza solo alle 6.26. Una notte agitata, nessun danno a persone o cose, tanta la paura e gli interrogativi. C'è apprezzione perché comunque stiamo parlando di una zona che è altamente sismica, una zona che comunque nel 1650 abbiamo un grande terremoto, una zona che comunque è sempre sotto osservazione e c'è una faglia importante e quindi aver avuto due scosse da 3-4 di scala di magnitudo a distanza di un minuto una dall'altra questa notte è stata percepita, non ci sono stati danni, però va controllata, va osservata, va accompagnata. Subito è scattata l'allerta della protezione civile del Veneto con il centro di ricerche sismologiche dell'Istituto Oceanografico di Trieste che in giornata ha installato nuovi strumenti di rilevazione nella zona interessata come si vede anche dalle immagini presente l'assessore Botaccin. Adesso viene installata proprio in fase di installazione una rete di monitoraggio aggiuntiva rispetto a quella esistente, quindi la rete mobile nei comuni di Quero e nel comune di Miane appunto per verificare anche eventuali situazioni di microsismi. Negli ultimi mesi la zona è stata interessata da terremoti di minore entità localizzati più a sud verso Pieve di Soligo, scosse analoghe si ricordano nel 2011 e nel 2015, un fenomeno che sarà oggetto di uno studio in partenza proprio con l'OGS di Trieste e che riguarderà l'intera regione. Adesso sta partendo un progetto che non è uguale al mondo di monitoraggio sismico con 300 sensori in tutto il Veneto e che consentirà di studiare anche eventuali fenomeni premonitori. Oggi come oggi non è possibile prevedere i terremoti ma magari con questi studi approfonditi fatti dall'OGS che in convenzione con la regione magari un domani chissà.